Massimiliano Allegri e Francesco Guidolin sul podio nello scorso campionato, oggi in discussione, quattro mesi dopo sotto esame. Il Ciarawi di prima, prova subito Nocerino, due volte Nocerino, Pazzini, e la colpisce male, che occasione però. Puntolivo di prima, buono in servizio per Emanuelson, il Ciarawi la mette giù, il Ciarawi per Kic, la tocca in calcio d'angolo. Palla che arriva il Ciarawi, potrebbe calciare, prova, il Ciarawi, deviazione, sarà calcio d'angolo. Pasquale, morbido al centro, occhio a questa sponda, Roneghe, il vantaggio dell'Udinese, il primo gol. Il campionato, nella notte serie A, per Mattias Roneghe. Le finte di Boateng, in area di rigore il tocco per Pazzini, al limite Pazzini. Per Emanuelson, un gol fantastico di Stefano Emanuelson. Ciarawi! Pasquale, parte il suo cross, colpo di testa e a piatti! Riesce a dire di no a Totò Di Natale. Pallone che arriva Di Natale, lo rimette dentro, ancora un mucchio, possibilità, Roneghe va giù, e il pallone in rete! Prima però, aveva fischiato l'arbitro, il calcio di rigore per l'Udinese. Allora, Roneghe, c'è l'intervento di Zapata, è stato espulso Zapata. Di Natale! L'Udinese torna in vantaggio! Parte a Cerbi, sulla barriera, che forse è uscita anche prima del dovuto. L'arbitro non fa ripetere, Boatenghe ancora. È giallo, ed è il secondo giallo per lui. Finisce in nove il Milan. Il triplice fischio del signor Celi di Campobasso, ha vinto l'Udinese, ha vinto 2 a 1. Non, 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 non.